Lo hanno ribattezzato Giardino dell'Incontro e delle Idee. È uno spazio interno alla struttura scolastica dove gli alunni e le alunne possono incontrarsi e dare vita a iniziative di carattere artistico, sportivo e di socialità. Siamo nella sezione del Liceo Coreutico Piero della Francesca di Arezzo, in via 25 Aprile. In questo spazio reale, nell'occasione adibito a teatro all'aperto, gli allievi e le allieve hanno portato in scena il gran galà di danza. Per il Liceo Coreutico e per la scuola, sicuramente Aretina è un momento molto importante perché danza sotto le stelle. Lo spettacolo finale del Liceo Coreutico, all'interno appunto del Liceo Piero della Francesca, che vuol significare un momento di incontro. Dopo tanto distanziamento nel nostro Giardino dell'Incontro, tutta la scuola, non solo i ragazzi e le famiglie del Coreutico, si ritrovano per passare una serata ammirando la bravura dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Va detto che questa manifestazione in passato, di solito, si svolgeva a teatro. Avete scelto invece di farla qui, quindi acquista forse ancora di più un valore simbolico. Esatto, invece di utilizzare il teatro, che continueremo a riutilizzare ovviamente prossimamente, con questo evento danza sotto le stelle, abbiamo voluto dare un messaggio di ritrovarsi, di un incontro, di passare una bella serata in questo bell'ambiente per cacciare le streghe di questa emergenza sanitaria che speriamo ormai sia alle spalle. Grazie a tutti.